Ripensare il welfare, lo stato del benessere, significa rileggere l'intera società con i suoi pilastri, con le istituzioni e chiamarle in causa, in un dialogo che tenga conto di tutte le voci. Famiglia, scuola, lavoro, fino ad arrivare allo stato e a ciò che torna all'utente e al cittadino per poi decidere le coordinate del nuovo patto sociale. Cosa non ha funzionato, per esempio, nel reddito di cittadinanza? Perché le soluzioni adottate per sanare fragilità sociali si sono poi rivelate divisive della società stessa? Tanti gli interrogativi che questa mattina all'Università di Chieti sono venuti fuori nel corso del convegno il ruolo delle politiche sociali per un nuovo patto sociale. L'Italia, così come l'Europa, stia vivendo un momento assolutamente trasformativo. Non è, come dico spesso, un'oscillazione di mercato, è un ripensamento dell'intero sistema economico. Abbiamo avanti a noi delle sfide che caratterizzeranno i prossimi anni, quello della sostenibilità, quelle che dettono un po' le agende di tutti i governi anche a livello internazionale. Io credo che quelle sfide si possono vincere con un rinnovato concetto di welfare, facendo in modo che il sistema di imprese privato possa essere in qualche modo partecipe delle sfide e degli obiettivi che tutti i governi hanno. Come tenere insieme efficienza economica, coesione sociale e democrazia in un mondo che sta cambiando vertiginosamente e che condanna come inadeguate le soluzioni, di volta in volta sperimentate. Si cerca una via di fuga, una società fuori squadra, come la definiva Arnaldo Bagnasco, oggi che è andato sgretolandosi un modello di riferimento. Vuol dire che la politica economica classica è definitivamente tramontata perché le dinamiche dell'alta finanza, le dinamiche della globalizzazione hanno un po' polverizzato questo discorso. E quindi anche l'economia politica può dare un contributo nel ripristino di una identità e di un'appartenenza nazionale e internazionale della politica come primato della gestione della cosa pubblica. E' il primo pilastro istituzionale ad essere chiamato in causa da sempre motori di cambiamento e l'università, che lancia le sue sfide già solo mettendo intorno ad un tavolo i promotori di idee, al di là dei contesti politici di parte ma con la visione politica d'ensemble, atta a ripristinare equilibri ma tenendo conto dei nuovi contesti sociali. Il welfare state non deve essere un lontano ricordo, ma il welfare state, questo stato del benessere, che forse dovremmo dire questo stato dell'esser bene, cioè la persona declinata in tutte le sue accezioni positive, possa trovare finalmente riscontro e la giusta collocazione all'interno della società.